Stadio Erasmo Iacovone di Taranto per il 2026, come si suol dire, la montagna ha partorito il topolino. Perché? Perché si sta strombazzando tanto il carattere moderno avveniristico di questo stadio con tutti i comfort e poi quanti spettatori avrà? Appena 16.306. Ridicoli, ridicoli. Mi parlate di uno stadio come lo Juventus Stadium, con i progettisti dello Juventus Stadium, un investimento di 46 milioni di euro, struttura avveniristica, centro convegni particolari, angolazioni e box per poter vedere la partita. Si era parlato in un primo tempo nell'area della costruzione pure di una torre, di un albergo che poi è scomparsa e evaporata. Tutto sto casino per che cosa? Per 16.306 posti. Un cazzo! Non si fa un cazzo con 16.306 posti. Qual è lo scopo? Quello solo dei giochi del Mediterraneo del 2026, ammesso che lo stadio si completi per quella data, o viceversa fare uno stadio di una certa portata anche in rapporto a un futuro che Taranto merita calcisticamente? Se tu vuoi portare la squadra in Serie A, ammesso che il Taranto ci riesca, non puoi fare la Serie A o anche una ottima Serie B solo con 16.000 spettatori. Immaginate un Taranto che va in Serie A e che fai tu? Taranto-Milan, Taranto-Inter, Taranto-Juventus per 16.000 spettatori? Fate ridere! Fate ridere, anzi piangere! Vi rendete conto dell'assurdità? Cioè un casino, 46 milioni di euro, spese di qua, spese di là, sembrava un'astronave per tutti gli aspetti moderni che ci avete rotto le scatole, le palle con tutte queste fantasie e poi alla fine che cosa mi ritrovo? Lo stadio di 16.000 posti! Ma stiamo scherzando? Ma dov'è la capacità progettuale di questa amministrazione? Mi dite che verranno gli architetti, i progettisti di quelli che hanno fatto lo Juventus Stadium e poi lo stadio di 16.000 posti! Per un Taranto che può mirare alla Serie A, che non ha neanche come numeri la possibilità di ospitare una partita UEFA, perché ci vuole una capacità, un numero superiore, una capienza superiore di spettatori e quindi ancora una volta Taranto è tagliata fuori rispetto a Bari, rispetto a Lecce, rispetto ad altre città della Puglia, perché noi dobbiamo essere sempre la sorellina povera. Ma al di là di questo, ci si può sciacquare la bocca con i rendering, con le proiezioni virtuali di questo stadio e poi alla fine ridurlo ad un catino di 16.000 spettatori? Ditemi voi se è normale, ma si sa, ormai questa è l'amministrazione Melucci. È un po' la stessa politica degli annunci di Rossana di Bello buonanima, proiezioni, annunci ad effetto, rendering, disegni e disegnini, progetti per illudere, per accecare, per gettare fumo in faccia al cittadino e poi manca la sostanza. Uno stadio di 16.000 spettatori, uno stadio di Serie C. Penso che l'ambizione del Taranto non sia quella di rimanere in Serie C e a maggior ragione, se si spendono 46 milioni di euro, non si può avere uno stadio per i puffi. Questa è l'amministrazione Melucci e queste sono le chiacchiere che l'amministrazione Melucci ci racconta e vi racconta. Aprite gli occhi, tifosi rosso-blu, aprite gli occhi cittadini di Taranto. Io sinceramente sono convinto che il nuovo stadio non si farà mai. Teoricamente i lavori dovrebbero iniziare nel 2024, ma siamo abituati alle chiacchiere di Melucci, di Emiliano, vedete un po' la storia infinita dell'ospedale San Cataldo che non vede la fine e chissà quando, se e quando verrà mai completato, per cui secondo me rimarrà questo stadio o se ci sarà il nuovo chissà quando sarà finito, non certo nel 2026, ma comunque vedremo cosa accadrà. Alle favole ormai io non ci credo più e spero che anche voi non ci crediate. Questo stadio per me, ve lo ripeto, non si farà mai. Vedremo chi avrà ragione.